Salve a tutti, oggi vi mostro come catturare Earthworm su Pokémon Scarlatto e Violetto. Dobbiamo andare al deserto di Alasar ed è proprio lì che ne ho trovati ben due. Ora, voi provate semplicemente a girare per il deserto. Se non ci riuscite, se non lo trovate, vi mostro dov'è il punto esatto dove l'ho trovato io, ma non è detto che anche per voi sia così. Ecco qua, intanto vi mostro com'è fatto. Eccolo qui. E sotto c'è anche l'altro che adesso non si vede. Eccolo là. Perfetto, vi faccio vedere dov'è il punto nella mappa. Eccolo qui. Quindi provate tante volte e abbiate la mia stessa fortuna, altrimenti girate per il deserto di Alasar fino a che non lo trovate. Perfetto. Quindi ingaggiamo combattimento e andiamo a catturarlo. Io ho usato un Ultra Ball senza nemmeno togliergli energia. Ed ecco fatto. Spero di essere stato d'aiuto. Un saluto.